Buongiorno a tutti amici di 365TV, siamo qui oggi per vedere la procedura corretta per lo spurgo di freni SRAM. Vediamo di cosa abbiamo bisogno. Siringhe specifiche SRAM con raccordi dedicati. Separatore di pistoni, nel nostro caso guide. Brugola del 2,5, brugola T25, una cinghia, olio specifico per l'impianto che dovrai spurgare, nel nostro caso un dotter 5.1, guanti protettivi, occhiali protettivi, un panno di carta, pulitore per i freni e oggi abbiamo esagerato birra artigianale. Per prima cosa andiamo a togliere le pastiglie dalla pinza. Successivamente inseriamo il separatore dei pistoni, ed ora possiamo andare a mettere un po' di olio nelle nostre siringhe. Sulla siringa che andremo ad ancorare alla nostra pinza ne mettiamo una buona quantità, teniamo presente che sarà la quantità che servirà per caricare tutto l'impianto. Ora possiamo aprire la nostra leva e ancorare la siringa. Ora andiamo ad attaccare la siringa alla nostra pinza posteriore. Qua dobbiamo fermarci a fare un appunto. Gli attacchi sulle pinze possono essere due. O bleed edge, come ho qui in mano io, oppure un ancoraggio a filetto come quello che abbiamo visto sulla leva. A questo punto vi consiglio di indossare gli occhiali protettivi per evitare danni derivanti dall'olio dot che è corrosivo. Apriamo come una normale vite, in senso anti-orario, l'entrata dell'olio e andiamo a spingere il nostro olio all'interno dell'impianto, verificando che esca dalla siringa superiore. Quando non vediamo uscire più bolle, quindi abbiamo la certezza di avere fatto defluire tutto l'olio sulla siringa posteriore, possiamo andare a chiudere il passaggio dell'olio sulla nostra pinza. Arrivati a questo punto, chiudiamo la nostra siringa e con il laccio precedentemente preparato andiamo a premere la nostra leva in modo da chiudere il nostro impianto. Ora ritorniamo sulla nostra pinza, apriamo l'impianto e andiamo ad aspirare e a immettere olio. Questo svariate volte fino a che non vediamo uscire più bolle dalla pinza. A questo punto torniamo sulla nostra leva, possiamo togliere il laccio e andiamo a fare la stessa operazione che abbiamo fatto sul posteriore. Quindi aspiriamo e immettiamo olio nell'impianto fino ad osservare la mancanza di bolle. A questo punto possiamo notare che il nostro impianto funziona correttamente. Quindi togliamo la siringa posteriore, facendo sempre attenzione di sporcare il meno possibile la pinza e lo stesso facciamo con la siringa superiore. A questo punto chiudiamo l'impianto e puliamo bene con il pulitore freni. Ora il nostro impianto è spurgato correttamente, non ci resta che montare le pastiglie. Vi aspetto per altri video molto interessanti sul nostro canale. Un saluto a tutti! Un saluto a tutti!